La Regione Toscana ha deciso di finanziare con 1.200.000 euro 25 cooperative di comunità nate per superare la crisi e lo spopolamento dei territori e selezionate tramite un bando che ha ricevuto il triplo delle adesioni ipotizzate. Nelle immagini vedete la presentazione dei progetti ammessi al finanziamento, arrivati dai territori più decentrati di 8 province su 10. In genere le cooperative di comunità sono costituite da cittadini più giovani di un borgo e operano nei settori più svariati, turismo sostenibile, varrolizzazione dell'ambiente e dei beni culturali, pesca, agricoltura. Questa è secondo me una bella sperimentazione, si è visto stamani, c'erano tutti, c'erano tutti i sindaci, c'erano tutti chi ha già una cooperativa di comunità esistente, chi la sta costituendo e so tutte idee che rigenerano un po' quelle piccole comunità che sono in territori cosiddetti marginali che invece marginali non sono affatto. Qualche esempio degli obiettivi delle cooperative di comunità? Dare stabilità ai giovani e alle famiglie di rimanere al giglio e sviluppare lavoro durante l'inverno in modo differente, ovviamente il turismo non sarà più quello di massa ma selezionato per le nostre richieste. Noi stiamo investendo nell'agricoltura, nella pesca e nella società. Abbiamo deciso di creare una cooperativa di comunità che si occuperà prima di tutto della creazione di un marchio e di un brand e di un manifesto della montagna cortonese e quindi in maniera partecipativa stileremo un manifesto con gli indicatori che permetteranno ai produttori locali di accedere ad avere diritto a questo marchio e fare in modo che quindi tutti i prodotti che escano dalla montagna siano riconoscibili e garantiti per chi li acquista. Tutte le cooperative investeranno gli utili in servizi ai residenti o nella manutenzione di strade, sentieri, arredi e altri beni comuni.